Si lascia la mano in bocca per come è maturata perché dopo un primo tempo non giocato al meglio, abbiamo ribaltato la partita, abbiamo ricominciato a giocare la nostra pallacanestro sia in attacco che in difesa, abbiamo preso un buon margine di vantaggio, sembra 10-11 punti di vantaggio, 5 minuti dalla fine, sembrava fatta e per come è maturata poi la sconfitta non ci piace additare gli arbitri come responsabili, però penso che stasera ci sia stato un diverso metro arbitrare, loro penso che abbiano tirato forse 15 tri libri nell'ultimo quarto, in una partita dove punto a punto, sicuramente nei nostri usciti per 5 falli, forse 4-5 giocatori, diciamo che ha un po' influito, non per non voler dare meriti a Ruvo che ha fatto una partita dura, intensa e ha meritato la vittoria alla fine, però penso che l'arbitraggio stasera ci ha un po' danneggiati. Con lo stesso spirito, il nostro obiettivo è entrare nelle prime quattro, sicuramente questa sconfitta ci condiziona un po' il cammino, dovremo cercare di recuperare questi due punti su un altro campo, continuare a vincere le partite in casa, sperare in un colpo fuori, sperando che Ruvo possa perdere una partita più di noi, una non basterà più, due più di noi, quindi alla fine diciamo che anche il quarto posto è seriamente in discussione, però continuiamo a lavorare, la squadra sta facendo il suo con tanti problemi fisici che stiamo avendo, con Cardillo ancora fuori, quindi speriamo di recuperare tutti per arrivare al meglio poi nella fase finale, di poter trovare un buon posto nei play-off e disputarli al meglio. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS